OAC Milan OAC Milan Anche su Miran TV Ciao a tutti e benvenuti Diamo il benvenuto anche a Mauro Ciao Mauro, benvenuto anche a te Ciao Lolluccio, come va? Tutto bene Lolluccio? Bene, bene Abbiamo fatto i lavoretti poco prima di andare in diretta Oggi non facciamoci riconoscere Che abbiamo visite importanti Oggi abbiamo personalità importanti Esatto Abbiamo un campione della nostra storia Abbiamo un campione della nostra storia E una giornalista top Una giornalista giornalista a 360.000 gradi Io darei precedenza a Federica La salutiamo e la abbracciamo Federica Sille da Zon Ciao Federica, buongiorno Ciao Federica, benvenuta Ascoltiamo un attimo Ciao, ciao a tutti Ciao, ecco qua Ciao Federica, ciao, benvenuta Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio Ciao, ciao Eccoci qua, Federica Grande Federica Ti salutiamo tutti con grande piacere Sono un po' invidiosa Mauro Perché ho sentito chiamare Lolluccio Non eri così affettuoso con noi Quando eri il nostro direttore Eri più severo Perché noi ci prendiamo sempre No, ti spiego Io credevo di dover tenere la guardia alta Quando intervenne Alessia Tarquinio Invece lo sganassone me l'ha tirato Federica Ma Federica Io ho avuto il piacere di invitarti Perché ho visto Oltre a mille motivi di stima e di affetto da sempre Ho visto su Dazon Bordocam Milan-Roma Che hai fatto tu Un pezzo bellissimo Che mi ha aperto un mondo Cioè tu vedi Fai la telecronaca col monitor Il segnale internazionale Tutto Credi di aver visto una partita Credi di aver capito tutto Invece arriva poi il tuo pezzo da Bordocam Che apre un mondo Sono dettagli Avete messo in luce Federica Hai messo in luce dettagli su Milan-Roma Veramente importanti Beh, la fortuna di avere così tante telecamere Puntate sul campo Poi noi abbiamo due videomaker molto bravi Che stanno a retroporta Corrono avanti e indietro Lungo la linea di fondo E quindi abbiamo recuperato un po' Soprattutto di espressioni Perché poi Riguardando gli highlights Si va sui punti salienti della partita Ma tutta quella serie di espressioni Di scambi Di battute Di opinioni Anche di scontri Tra i giocatori in campo Le indicazioni degli allenatori Dalla panchina Passano in secondo piano Rispetto ai gol Ce ne sono stati tanti In Milan-Roma E quindi ha maggior ragione Andare a vedere Tutto quello che magari è Meno importante Apparentemente Però poi porta Altrettanto il risultato Insomma All'obiettivo del nostro Bordocam Allora Federica Elollo Allora Federica Federica segue a livello nazionale Le partite più importanti E conduce trasmissioni Su Dazon Sul nostro campionato Conosce anche la storia dettagliata Del Milan Dell'Udinese E conosce Alla grande Un campione d'Italia Della nostra storia Che vado a salutare Ad abbracciare Thomas Elweg Thomas buongiorno Buon pomeriggio A tutti Un abbraccio forte Da Vennarca Ciao Thomas Ciao Buongiorno 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 Ti saluta Lollo Ti saluta Federica Zille Esatto Sì Vivero Vivero molto Ficcante oggi Buon pomeriggio Allora Tom Tu Thomas Tu oggi Sei collaboratore tecnico Della Nazionale Danese Dell'Odense Se ho seguito Sia della Nazionale Danese A livello giovanile Che dell'Odense Se ho seguito bene La tua carriera Thomas No Sì La metà Vero Mauro Vuol dire che Con la Nazionale Non ci sono più Invece Con la mia squadra Di città Odense Per K Sono convolto Abbiamo il nostro Pre campionato Che sta andando In questi giorni qua Abbiamo Un bel retiro Di quasi tre settimane Davanti a noi La settimana prossima Quindi Impegnatissimi qua Allora Allora io sono sicuro Lollo Che sia per Thomas Helweg Che per Federica Zille Ci sono Tante domande Da parte I nostri tifosi Io faccio una domanda A loro Poi ti lascio Con il contatto Con Tutto Tutto il nostro pubblico Tutto il nostro popolo Thomas Perché È così Difficile Tosta Ruvida Poi farò la stessa domanda Federica Perché è così ruvida Per il Milan La trasferta a Udine Perché Eh sì Questa è una Grande domanda Perché poi La storia Ci racconta Che sembra stata così Ci sono dei campi Dove Un avversario Fa fatica Proprio A creare Diciamo Risultato Invece Altra squadra Che vanno là Facilmente Porta a casa Quali punti No Per il Milan Sembra che Andare in Friuli A giocare a Udine È sempre una È un bel Un bel lavoro Che si deve fare Per avere Un po' di successo Quindi Insomma Esistono questi campi qua Che per una squadra È più di un ostacolo Federica Guardi Ti dico Mauro Che la primissima partita Che ho visto allo stadio È stato Un Udinese Milan Quindi siamo proprio A tema E anche in quell'occasione Finita 0-0 Ed era un Milan Fortissimo Perché era Milan di Ancelotti Con tantissimi campioni 2003-2004 Esattamente 2003-2004 Esattamente Con la stagione La stagione Dello Scudetto La stagione Scudetto 25 aprile Se non sbaglio Era quel giorno È una partita È una partita È una partita tosta Un pochino Anche per le caratteristiche Ultimamente Dell'Udinese È una squadra Che gioca quasi sempre Con la 3-5-2 Quindi molto coperta Molto fisica Il Milan Sul piano fisico Probabilmente In questa stagione In particolare In alcune partite Ha fatto un po' più Di fatica Altenere il ritmo Degli avversari Per 90 minuti Adesso Sicuramente È una squadra Più brillante Però Ecco Tanti punti Forse sono stati persi Con avversari Che correvano Un po' di più Brillanti E con la possibilità Di fare turn over Che i mille infortuni In questa stagione Hanno tolto Anche a Pioli Assolutamente Parto io Allora Fede parto da te Ho una domanda Di Francesca Che ti dice Fede Come ti sono sembrate Fisicamente A proposito Mi hai un po' spoilerato La domanda Come ti sono sembrate Fisicamente Le squadre di Milan E Roma Una partita Che va presa Con le pinze Perché è vero Che è un big match Però la Roma Era È stata veramente Soprattutto nel primo tempo Un avversario Troppo semplice Da leggere Per il Milan E quindi Ecco Credo che Tre punti fondamentali Una bella vittoria Però Non bisogna addaggiarsi Su quella Partita lì Anche perché sappiamo Che il giorno dopo Abbiamo capito Quanti extracampo C'erano Attorno alla Roma Per rendere un po' più difficile Il tutto E ho visto Milan In crescita Più brillante Con più idee Sicuramente Certo è che veniva Che veniva anche da una partita Quella contro l'Atalanta Che ci aveva raccontato Tutta un'altra cosa Un Milan Buono nel primo tempo E che poi Non ha Sostenuto il ritmo Dell'Atalanta Nel secondo Anche se Pioli ci ha raccontato Che i dati fisici Sono equiparabili Tra le due squadre E loro sono molto soddisfatti Da un punto di vista Atletico Della squadra Quindi inizia ad affidarsi Dei dati Più che dell'opinione Tra l'altro però Aggiungo una cosa Fede Quello che stavi dicendo Molto interessante Comunque l'utilizzo Dei due centrocampisti Adli da una parte Renders dall'altra Davanti alla difesa Che comunque hanno fatto Tanta copertura Lì in mezzo Quindi sì è vero Che concordo con te Va presa comunque Con le pinze La partita Però può dare Delle indicazioni Secondo me Molto interessanti Soprattutto a livello tattico Per quelli che poi Saranno gli sviluppi Del Milan Nel prossimo futuro Ma proprio quello Dicevamo Adli nel primo tempo Ha avuto un controllo Totale Dei movimenti Di El Sharawi E invece Abbiamo visto Lukaku Abbandonato in mezzo Due centrali A proposito di Difensori danesi Aver recuperato Kier Più che Dal punto di vista Atletico Dal punto di vista Tanto mentale Lui è un leader Secondo me Al Milan È mancato in certe parti Di questa stagione Un leader E lui lo è In una difesa Che comunque Ha dovuto sostenere Un cambio di ruolo Da parte di Teo Che adesso è tornato A casa sua Però intanto c'è stato Gabbia che torna Da un prestito Comunque anche lui Ha bisogno di un attimo Di rodaggio Invece con Kier Accanto Sembra tutto più semplice In certe partite Perché è una guida È un punto fermo Penso anche per loro L'importanza di questo giocatore Secondo me viene spesso sottovalutata Perché ci si ferma La prestazione in campo Ma non è tutto Certo Concordo Altra domanda Che ho raccolto Invece per Thomas C'è Miki Che ti chiede Ma che cos'ha Di così speciale Udine Per far crescere Così tanti talenti Che poi vanno in giro Per il mondo È una questione Di scouting È una questione Di bravura Dello scouting Che cos'è O l'ambiente Che lascia la possibilità Ai giovani ragazzi Di crescere È un po' questa la curiosità Io credo che comunque Sia un bel misto Di tutte le cose Come piazza Diciamo che è una piazza Importante Però Che ti lascia crescere Poi è una società Che nella storia Ha avuto la filosofia Di puntare molto Sui giovani Anche pronti A magari Spagliare Un acquisto così No Se magari Riprendono cinque Va più che bene Se esce fuori Uno o due Quelli che rimangono Poi Vengono messi in prestito E rivenduti Quindi È una strategia Di Diciamo Di Per come Come creare Una squadra Puntando un po' Sui giovani Ecco E ha sempre fatto così Nei ultimi 20-30 anni Tipo Da quanto Posta Sta la guida Ecco Rimano E rimane comunque Sempre un giocatore Molto importante Per noi A livello di nazionale Diciamo che Nei ultimi mondiali E anche I ultimi europei Magari ha avuto Delle difficoltà Specialmente Durante i mondiali Che abbiamo Praticamente Fatto tre partite Poi subito a casa E specialmente I più Diciamo Esperi I giocatori Con più Esperienza Scusate Dove si trova Anche Simon Sono stati Criticati In un modo Molto Particolare Quello È stata La partenza Di un discorso Lungo Qui Tra giornalisti Popolo Così in comune Il nostro Piccolo Mondo di calcio In Danimarca Se fosse Non è stato Il tempo Adesso Di puntare Più sui giovani Meno esperti Ma Diciamo Fare I passi lunghi Per Diciamo Preparare la squadra Al futuro Però Il nostro CT Continua A puntare Su Anche Questi Esperti Più Anziani Nella Rosa E Hanno Risposto In un modo Diciamo Riscrettamente Positivo Ecco Simon Rimane Sempre Uno Per me Importante Diciamo Che Anche Ha più di 120 Partite In Record Nazionale Quindi Sì sì Infatti E quindi È lì È sempre lì È sempre presente Da sempre Il suo In campo Ma soprattutto Anche Anche Fari Certo Sai Thomas Cosa Mi hai Fatto Pensare Ad una Cosa Che Noi Diciamo Spesso Io e Mauro Nelle Dirette Lo Diciamo Spesso La Bravura Del Tecnico Dovrebbe Essere Quella Poi Di Riuscire A Coniugare L'esperienza Di Determinati Elementi Ad Altri Elementi Giovani Da Poter Inserire Parlavamo Proprio Dell'Udinese L'Udinese Proprio Kappa In Questa Cosa Di Riuscire A Fare Questo Mix Tra Giovani E Vecchi Dopo Ritorno Da Federica Però Prima Thomas Ti volevo Chiedere Un'altra Cosa Questa È Una Mia Curiosità Io E Mauro La Pensiamo Diversa Su Questo Argomento Mi Riferisco A Teo Centrale Tu Al netto Sì Su Quale Perché Sono Tanti Gli Argomenti Sui quali Non siamo Prettamente Concordi Però Thomas Ti Volevo Chiedere Questa Cosa L'utilizzo Di Teo Al netto Dell'utilizzo In caso Di Necessità Che Ha avuto Comunque Il Milan Nell'ultimo Periodo Tu Teo Lo Schieri Come Terzino Nel suo Rolo Naturale O Lo Utilizzi Dove Ha Fatto Benissimo Come Difensore Centrale Ripeto Al netto Dell'esigenza Sì Grande La Romanda Guarda Io Ne sono Molto In dubbio Per dire La Verità Soprattutto È Un Giocatore Che Mi Piace Tantissimo Non so Nemmeno Cosa Rispondere Perché Poi È Uno Che Vive Sì Sì Ma Lui Vive La Sua Partita Per Sè Ma Tramite La Squadra Capito Quindi È Uno Che Da Il Suo Massimo In Qualsiasi Ruolo Che Gioca Però Vive La Sua Vita Privata In Campo Ed Ha Comunque Sempre Il Suo Contributo Alla Squadra Nel Milimo Modo Che Possa Quindi Però Mi piace Sempre Anche Perché Magari Io Sono Sempre Stato Uno Molto Vicino Alla Linea Così Allora Mi Piace Quando Gioca Lì Perché Spinge È Uno Che Sa Benissimo Mettere in Difficoltà L'avversario Soprattutto Quando Si Va Attaccare L'ultimo Terzo Del Campo Quindi Sì Io Preferirei A Giocarlo Sulla Fascia Ok Va Bene Allora Abbiamo Anch'io Ho Detto Così Sumo Invece La Pensa Diversamente Ognuno È Liberissimo Di Credere Quello Che Crede Uno Strepitoso Centrale Come Ha Dimostrato Anche In Coppa Italia Facendo Gli Assis Per I Ovice Per Le Au Ma Sentiamo Federica Zille Che Secondo me Arricchisce È Vero Un po' La Bastoni Insomma Quello Che Faceva Soprattutto Negli Passati Bastoni Molto Bene Un Centrale Con Con Vicenta Di Sganciarsi Di Avanzare Diventare Pericoloso Quello Che Ha Detto Lui Ossia Teo Mi Sembra La Cosa Più Ragionevole Sono Ancora Giovane Ho Ancora Tempo Per Stavano Tutta Faccia E Teo Potrebbe Diventare Devastante Quindi Vediamo Insomma Le Evoluzioni Anche Del Milan E Poi Troveremo Il Posto Giusto Per Teo Hernandez Che Ovunque Lo Metti Sta È Anche Molto Interessante Il Discorso Sulle Motivazioni Però Che Teo Magari Poteva Un Pochino Aver Perso E Dovendosi Applicare In Qualcosa Di Nuo Aver Ritrovato Quindi Chiede Michele Fede Ma Secondo Te Difficilissima La Risposta Metto Le Mani Avanti Fede Ma Secondo Te Questo Milan A ranghi Completi Dove Può Arranghi Completi Ovviamente Cercando Di Recuperare Insomma Tutti Difensori Principalmente Quelli Difensori Centrali Che Rimarranno Fuori Ancora Per A ranghi Completi A ranghi Completi Mi Scusi Dottor Suma Era Ancora Molto Ipotetica Perché Sappiamo Che Gli Infortuni Soprattutto Dei Difensori Sono Bel Lunghi Ancora Da Smaltire Quindi Se Dovessimo Fare Questo Mondo Ideale Con Tutte Le Rose Complete Sicuramente Milan Non avrebbe Noi punti Di stacco Dal Primo Posto Questo Penso Sia Bastante Probabile Credo Anche Che Potrebbe Non Essere Uscito Dalla Champions League Comunque Di Essere Ottavo Quindi È Veramente Un Mondo Troppo Da Immaginare Ecco Io Sarei Curioso Di Vedere Un Milan Che Finalmente Si Applica Anche In Europa League Che È Una Competizione Che Negli Anni Proprio Perché Era Una Cosa Talmente Lontana Dal Mondo Milan Magari La Coppa UEFA E L'Europa League È Sempre Stata Trattata Con Poca Applicazione Ecco Continuo Usare Questo Termine Che Il Più Carino Che Mi Viene In Mente Però Quest'anno Potrebbe Essere Qualcosa Di Diverso Anche Perché Sarebbe Bello Per Questo Ciclo Di Giocatori Che Compioli Sì Ha Vinto Uno Scudetto Però Non Ha Ancora Dato Tutto Vedere Un'altra Competizione Onorata Io Fino Una Decina Di Giorni Fa Due Settimane Fa Ero Convinta Che Nessuno Potesse Togliere Lo Scudetto All'Inter Però Però Sono Anche Abbiamo Visto Anche Alte Scuole La Juventus In Particolare Tirare Fuori Dal Cilindro Giocatori Tipo Il Dis Che Inizio Stagione Non Avremmo Pensato Che Potessero Fare La Differenza Quindi A Margine La Juve E Non Vedo Perché Proprio Con Il Rientro Di Alcuni Infortunati Anche Il Milan Non Posso Avere Quel Margine Che Invece Nell'Inter Che È Una Macchina Perfetta In Questo Momento Magari È Già Stato Raggiunto Ecco Il Top Se C'è Una Cosa A cui I Giocatori Si Possono Appellare E Questo Margine Che Magari L'Inter Non Ha E Invece Altre Squadre Devono Restorare Certo Anche Perché Fisiologico Magari Prima o Poi Un Calo Potrebbe Potrebbe Comunque Arrivare Come è successo A Napoli Che Però L'anno Scorso Aveva 20 Punti Di Vantaggio Quindi Non è servito A nulla Mauro Qualche domanda Per gli ospiti Sì Sicuramente Ne ho Intanto Una Per Thomas Helweg Perché Volevo Fare Un Paragone Thomas Tu Hai Vinto Lo Scudetto Al Milan Con Zach Nel 98 99 È Stato Uno Scudetto Punto A Punto Lottato Vinto All'ultima Giornata Poi Il terzo Posto Dell'anno Successivo Le difficoltà Dell'altro Anno Qui Il Milan Con Stefano Pioli Ha vinto Uno Scudetto Come il tuo Bruciante Elettrizzante Emotivamente Pazzesco Nel 2022 Poi L'anno Dopo Ha fatto La semifinale Di Champions Liga Adesso Sta Facendo Questa Stagione Ecco Dopo L'emozione Forte Dello Scudetto Un Filo Di Calo Ti Sembra Di Vedere Nel Milan Di Oggi Quello Che Avevi Vissuto Tu No Questa È La Risposta Così Molto Secco No Perché Io Mi Ricordo L'anno Successivo Dopo Lo Scudetto Nel 99 2000 Diciamo Forse Ci siamo Tolti Un po L'attenzione Perché Poi L'anno Dello Scudetto Di Due Anni Presidenti Nel 96 97 97 98 Il Milan Facciamo Era Andato Ma Tanta Fatica Si Andato Malissimo Quindi Impressione Che Era Messo Sulla Squadra Di Zaccaroni Nel 98 99 Era Enorme E Quindi Abbiamo Poi Alla Fine Concluso Con Del Successo E Poi Forse Ci Ha Tolto Un Po Il Fiatto Siamo Riusciti Diciamo A Rimettere Il Milan Al Top E Forse I Reazioni Su Questo Erano Non Previsti Ecco Invece Con Pioli Il Milan Di Oci Credo Che È Un Altro Discorso Perché Comunque Ha Sempre Avuto Per me Un Livello Molto Accettabile Sia Nel 2002 Ma Anche Gli Anni Prima Quindi Non È Non È Un Diciamo In Questione Di Rimettere La Squadra Al Top A Tutti I Costi Perché Si Trova Già Lì Vicino Io so Appenissimo Che Per Milan Finire Secondi Terzi O Quarti Non È Un Crank Che Si Gioca Sempre Per Vincere E Vincere Anche Lo Scutetto Quindi Si Si Trovo Difficultà Facendo Questa Strada Qua Io Non Verro Paragoni Di un Certo Tipo Rispetto Al Il Milan Di Saccharone Ok 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 Io Prima di Salutare Sia Tomaselweg Che Federica Certo Certo Però Ci hai fatto Perfettamente Capire Io volevo fare Un'ultima domanda A Federica Zille Che è una giornalista Molto eclettica Nel senso che Federica Zille Conduce Trasmissioni Realizza speciali E Fa Molti post partita E fa anche Molti bordo campo Io ti chiedo Questo Federica Mediamente Ti sei fatta L'idea Che Le partite Le giocano I giocatori Abbiamo sedito Thomas Elweg 11 contro 11 E poi I cambi 15 contro 15 E Ti chiedo Fisicamente Gli allenatori Impattano In qualche modo Mettono Dell'energia In campo Un'energia Che può essere Diversa Può essere Teatrale Può essere Cerebrale Può essere Emotiva Può essere Razionale Ecco Impattano In qualche modo Gli allenatori Durante le partite Con la chimica Della gara E se si Che tipo di energia Mette Pioli Mediamente Sulla squadra Segui tutte le partite Del campionato Di Serie A Ma ti è capitato Di seguire spesso Anche il Milan Assolutamente Uno di quelli Che forse Impattano di più È Allegri Ad esempio Che ha una lettura Delle partite Le cambia A partite in corso Ma questo Da un punto di vista Tattico Tu mi stai chiedendo Anche quello umano Quello comportamentale Diciamo Lui Parlo sempre di Allegri In quello Che è il lavoro Che è il lavoro Che si fa durante la settimana Lavoro di Pioli L'anno scorso C'è stato un momento Complicatissimo Proprio in questo periodo qui Ossia quello del passaggio Alla difesa 3 Non era scontato Che la difesa E qua torniamo Con un piccolo ricorso storico Con il 99 Quando poi bisogna Passare a 3 Con Zaffironi Non è scontato Che ci sia questa fiducia In un cambio di direzione E adesso Con tanti giocatori nuovi Non era scontato Che ci fosse in Pioli Quindi credo che Pioli Anche a partita in corso Mantiene sempre Tranquilli i giocatori Li rassicura E anche quello Che abbiamo visto domenica Tirare fuori Pulisic Leao Che sembra una mossa folle Perché sono le due luci La davanti della squadra E insomma Si ha un rafforzare La posizione di Pioli Anche con decisioni Scomode magari O discutibili Che però portano al risultato E lì Il laneratore Ha la sua affermazione Federica Noi ti ringraziamo tanto Federica Zille È bravissima Diventerà negli anni Sempre più una grande giornalista Grazie E buon lavoro Federica Presto Grazie a voi Ciao Buon pomeriggio Ciao Ciao Fede Ciao Grazie Grazie a Federica Zille Salutiamo anche Thomas Helweg Thomas mi raccomando Tifa per noi Sabato sera Thomas sai che nella nostra storia Non abbiamo mai vinto a Udine Di sabato sera Mai Neanche una volta Ma non è ora di cambiare Dici? Eh esatto Esatto Bravo Tabù da sfatare Esatto Esatto Però Devo dire Comunque devo dire Tifo Tifo anche un po' Udine Ci sta Eh Ci sta Ma non troppo Ma non troppo Grazie Thomas Ragazzi Ciao Thomas Grazie Ciao Piacere nostro Un abbraccio Thomas Ciao Ciao Grazie Ciao Grazie Ciao Ciao Thomas Helweg E abbiamo avuto anche il piacere Di avere con noi Federica Zille Lolluccio Quindi Intanto ringraziamo Andrew Insomma si sono sabati Un po' di fratelli e sorelle Ringraziamo Andrew Poi dovrei salire Vediamo se riesco a salire 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 Vabbè insomma Ringraziamo tutti quelli Che sono sabati prima Magari Stefan Fan se riesce a ricordarmi Che sono le ultime 4-5 sabati Li salutiamo Intanto Sì ciao Ciao a tutti Ciao 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 Domande Sì Allora Luca Serafini C'è oggi Luca Serafini Fino a questo momento Fino alle 17-28 Non è ancora arrivato Non si vede Quindi non so se Non so poi che cosa Che cosa succede Stanno scrivendo Vediamo se è successo Ah eccolo qua Ringraziamo Emilio Phil Ringraziamo Mauro Marre Marre Grazie Grazie a tutti per le sabettine Grazie Stefano in regia E Luca dove sei? Sì Dovrebbe arrivare Dove sei? Aggiornamenti Avete ragione ragazzi Allora Aggiornamenti Mediero segnati Allora Mauro aiutami Allora Abbiamo Olivier Giroud Che ha recuperato Dal problema Oggi ho letto Che si è allenato Quindi presumo Che abbia recuperato Sì Io ho letto Ho letto il report Dell'allenamento E si è allenato In gruppo con la squadra Si è allenato In gruppo Florenzi Si è allenato In gruppo Sportiello In questo momento Lollo abbiamo fuori squadra I due giocatori Che sono in Coppa d'Africa Benassere e Ciuqueze E abbiamo fuori Lungo De Genti Lungo De Genti Particolarmente lunghi Calulu e Pobega Lungo De Genti Ci vorrà ancora un mese Quel che ci vorrà Non lo so Però Avranno Un po' meno Di tempo Da recuperare Perché i loro infortuni Sono stati Di un'entità diversa Ciao E Tomori E quindi Questa è la nostra situazione Per cui Florenzi ok Sportiello ok E Giroud ok Marco Lollo Domanda a Suma Come vede Simic titolare? Insomma Tra una partita e l'altra Adesso abbiamo una settimana Magari ci sta Che magari il mister Percega Io vedo Simic Vedo Simic Di personalità Attento Concentrato Funzionale Nelle rotazioni In questo momento Ci sta Noi in questo momento Come difensori centrali Abbiamo Gabbia Chia E R Simic E In alternanza Con la fascia sinistra Teo Questa è la nostra situazione E Simic ci sta In questo momento Simic lo ha dimostrato A me era piaciuto Come era entrato Anche con l'Atalanta In Coppa Italia Quando abbiamo perso Figurati Quindi Quindi Nelle rotazioni Ci sta assolutamente In questo momento Siamo fuori dalla crisi Degli infortuni E Meglio non dire niente No nel senso Stiamo calmi Stiamo calmi Soprattutto zitti Esatto Esatto Era proprio quello che Era proprio lì Che volevo Volevo arrivare Intanto vedo che È arrivato però Luca Serafini Che sta sistemando cose E non so Ciao Ciao Luca Ciao Buon pomeriggio a tutti Ciao Luca Buongiorno Ciao Buongiorno Come vai? Le telefonate sono in scaletta Sì? Le telefonate sono in scaletta Ma ho scritto a due o tre Con i quali stavo messaggiandomi Di rinviare tutto dopo le 18 Adesso vediamo Mia sorella L'ho sentita a pranzo Dovrebbero essere Slombri da Interferenze Sto bene Sto bene Caro Lollo Bene Si sente Serenamente Attendo Il Friuli Con grande fiducia E ottimismo Benché In questo mese Di gennaio In cui il Milan È particolarmente Attivo Con tutti i problemi E le difficoltà Che ci sono Nel mercato Di questo mese Vedo che L'attenzione È soprattutto Sulle partenze Perché Mediaticamente Il dopo Pioli Il dopo Girù Il dopo Kier Danno più spunti Per Per lo smantellamento Di giugno Quindi Però Siamo aggrappati In realtà Alle entrate Dopo Terracciano Dopo Ritorno di Gabbia Che fra l'altro Mi pare Veramente Corroborato Da un'esperienza Spagnola Che non è stata Particolarmente Felice Però da tutto Si apprende E lui mi ha dato Grande tranquillità In queste prime apparizioni Molta tranquillità Infatti È una cosa Che volevo Mauro Dovevo dire questa cosa Tra l'altro Durante l'inferno Avevo raccolto Delle domande E poi Dopo abbiamo finito Prima Quindi non Non te le ho girate In diretta all'inferno Però Uno dei temi Era quello Che Vedevo che tanti tifosi Dicevano Non abbiamo parlato Abbastanza Della prova difensiva Insomma Di Gabbia Kier Che comunque L'hanno fatta E l'hanno fatta bene Era una di quelle domande Che mi ero tenuto Di riserva Per lunedì Quindi se l'ha appena detto E pensa poi Come è la vita Cioè stiamo parlando Di due giocatori Che erano fuori Dall'orbita Perché uno era in Spagna L'altro si dava Come Come ormai Al capolinea E invece Contro un avversario Che rimane E comunque Di un certo spessore Con tutti i problemi Che ha la Roma In questo momento In questo momento Hanno fatto molto bene Perché quando Secondo me C'è la professionalità Di ragazzi Che hanno evidentemente Anche delle qualità Poi che uno abbia 35 anni L'altro ne abbia 22-23 Non cambia nulla Insomma Ecco se l'attitudine Quella Si può stare Chiaro che non è Una soluzione definitiva Per carità Però è affidabile Però è affidabile Certo Che è quello Che servono E sempre Parlavamo di normalità Scusa Mauro Ti ho interrotto Prego Senti Luca Udine Tappa Udine Sei in ritardo Scusa Pella di Mar Pensavo che appena collegato Mi avresti detto Allora Udine Pronti via È dura Ho cercato Ho cercato di capire Com'era il mood Però Luca Ha chiuso Luca ha chiuso Il collegamento Di prima Luca ha chiuso Il collegamento Di prima Dicendo che il Milan A sabato Udine Non ha mai vinto Quindi si era portato Avanti No a dirglielo Sì di sabato sera La nostra storia Udine Non abbiamo mai vinto Te lo dico subito Le statistiche Sono fatte Per essere smentite Poi E' chiaro che Quello loro sono Molto cresciuti Per carità Dall'arrivo Del loro allenatore Che guarda caso E' coinciso Proprio con la partita Di San Siro Dove non meritavano Nella maniera Più assoluta Di vincere Quindi una concessione Dal Milan L'hanno già avuta Quando succede Il mercoledì scorso L'Atalanta Ha strameritato E ci sono state Altre occasioni Come aveva meritato A Bergamo Anche se il Milan Aveva avuto Tante possibilità Ma l'Udinesi A San Siro Proprio non meritava Di vincere Per cui Avendo già dato Sabato Bisogna andarsi A riprendere Quello che è stato Regalato Non mi spaventa Questa Però stavo dicendo Che loro Con Cioffi E la squadra E' migliorata La squadra E' migliorata Sì Esatto Io volevo Volevo Chiederti questo Luca Nel senso C'è della chimica Cioè Ci sono magari Delle squadre Con cui noi Facciamo un po' Più di fatica Inter e Atalanta E squadre Con cui facciamo Un po' Meno di fatica Napoli e Roma Così Vista da fuori In maniera un po' Sommaria Un po' superficiale L'Udinese Io vedo Che quando scende In campo Con noi Si sente Che con la sua Fisicità Con il suo Modo di chiudersi Con il suo Modo di fare Con noi Può far bene Ecco E' una cosa Che dobbiamo Lavorando anche Sul nostro Orgoglio Smontare Beh sì L'orgoglio E' sempre Una chiave Nello sport Per carità di Dio Però lì La parola Chiave E' quella Prima che hai detto La fisicità L'Udinese E' Negli ultimi anni Una squadra Particolarmente Vigorosa Dal punto di vista Stutturale Fisico Ha dei giocatori Magari tecnicamente Non è Chelsea Però che stanno lì Per molto tempo Perché danno Dal punto di vista Atletico E proprio come Massa muscolare Un contributo Notevole Avendo evidentemente L'Udinese Delle ambizioni Dei traguardi Degli obiettivi Molto differenti Da quelli del Milan Quindi si aggrappa A una compattezza A una solidità Difensiva Che però Ha delle sbavature Anche in questo periodo In cui sono migliorati E davanti Ha trovato Alcuni giocatori Che si sono sbloccati Perché quello Era inizialmente La lacuna Come Lucca Come lo stesso Samaric Che è ogni tanto Ciazzecca L'ho dimostrato In quasi tutte le partite Però Nonostante questo Ci sono Molti punti deboli Perché è una squadra Imperfetta E incompleta Speriamo di Speriamo di sfruttarli Mauro C'è Gabri Che ti chiede Lolo Chiedi a Mauro Che dovrebbe ricordarsi Che ricorrenza c'è Per il giorno 20 gennaio Il 20 gennaio Se non sbaglio Il 20 gennaio Aspetta 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 Il 20 gennaio Se non sbaglio Abbiamo giocato Con l'Udinese A San Siro Nel Ah no Ok 3 a 1 Ah no Il 20 gennaio L'esordio di Paolo Maldini A Udine L'esordio di Paolo Maldini A Udine Stavo facendo una Luca Stavo scivolando Proprio su una Buccia di banana storica 20 gennaio Dell'85 Esatto 20 gennaio 85 20 gennaio 85 Cesare Maldini In macchina In auto Che sente la notizia Da tutto il calcio Minuto per minuto Luca L'avrai sentito Raccontare spesso Questo episodio C'era Nils Lidholm Ex compagno di squadra Di Cesare Maldini Che ha fatto esodire Suo figlio Noi facciamo una Meravigliosa Meravigliosa intervista Un paio di settimane dopo Con papà Cesare E il figlio Paolo Per super goal Perché c'era anche Maurizio Mosca E eravamo a casa Eravamo a casa loro Eravamo a casa loro Eravamo passate Se non mi sbaglio Proprio due o tre settimane E ci raccontò Questa cosa Sordinaria Paolo Maldini Che poi ha detto Un milione di volte Che lui Se la faceva addosso In parole molto Povere Avrebbe dovuto esordire La partita precedente A San Siro Ma Lidholm Aveva visto Che tutti i giornali Lo scrivevano e parlavano Quindi non lo aveva schierato Perché me lo hanno Troppo agitato Ma l'aneggito straordinario Fu che Paolo disse Io veramente Ero molto agitato A Udine Negli spogliata Ero molto Non ero tranquillo Mi venne vicino Nils Lidon La prima partita E mi chiede In che ruolo vuoi giocare? E lui disse Non c'era nessun'altra frase Che un allenatore Avrebbe potuto dirmi Per mettermi il mio agio Cioè Come? Cioè La squadra era fatta Sapevo che avrei dovuto fare Tra l'altro Il terzino destro Non il terzino sinistro Ma lui comunque mi disse Dove vuoi giocare? Se io gli avevo Mi ha detto Ovviamente Io gli dissi Dove dice lei Il terzino Però Sarebbe stato simpatile Dire il centroavanti No? E che cosa avrebbe detto? Ma Lidholm Era fantastico Per queste cose E l'aveva messo a suo agio Dice Io poi sono andato In campo tranquillo Più rasserenato Cioè Veramente Mi ha messo Mi ha giocato Luca Ricordami Ricordami Catello Cimmino Come entra nella vicenda Il giovane Catello Cimmino Che era in panchina Era infortunato Gli ha dato le scarpe Già che me ne ricordo Una Perché l'ho vissuto Un aneddoto Perché subito Mi devi ravanare Sapendo che la mia memoria È quella Per dimostrare Che lui se lo ricorda È per quello Che te lo sta chiedendo Ma lo sai Ma questa qua È una contesa Sei un'anima nera Tu Tu sei un'anima nera Consuma Consuma È una contesa Che dura Da più di 30 anni Lui ha una memoria storica È una capacità Di Ma no Luca Di data Che io non ho Io l'altro giorno Sono stato No ma infatti Io ero convinto Te l'ho chiesto Luca Te l'ho chiesto Perché pensavo Conoscendo bene La vicenda E Paolo Che lo sapessi Tu sei un poeta Non devi ricordarti Le date Le date Non le azzecchi mai Ma io L'altro giorno Ho scritto Un articolo Su Macron Che perde Il sonno Per il futuro Di Mbappé E ho detto Non è che abbia Dei problemi più grossi Come la politica estera Il terrorismo E la ristrutturazione Di Notre Dame E ho scritto Notre Dame Così come l'ho pronunciato Mentre invece Si scrive Notre Dame Non ti dico Ah si Notre Dame La telefonata Il direttore Quindi i poeti Scivolano Sulle sciocchezze Però non so Come entra Cimmino Che era un mio idolo Perché tutti i ragazzi A questa epoca Io avevo 20 anni Quando debuttavo Un 20 anni Mi ricordo Per esempio Giovanni Lorini Cimmino Sì Altri giocatori Il Carlo Tresoldi Quando esattivano A 20 anni Che era la mia età Mi gasava Giovanni Lorini Luca Giovanni Lorini Avevo 10 anni Ero a Mantova Campo neutro Campo neutro Con la Roma Con il petardo di Anastasi Ricordi Con il Cagliari Milan Cagliari 0-0 0-0 0-0 Ero allo stadio di Mantova Ero al Martelli Campo neutro Perché c'era stato Il petardo su Anastasi In Milani Uve Quindi Milani Campo neutro E Giovanni Lorini Chi giocò Giocò Quella Partita Allora Grazie O a causa Di mia Povera sorella Maggiore Quel Milan Cagliari A Mantua Noi perdiamo Il pullman Dei tifosi Che torna a Milano Perché Perché lei aveva Un mezzo accrocchio Con Ivan Gregori Del Cagliari Mia sorella Maggiore Quindi lo abbiamo Aspettato Dopo la partita Salutino Baccino Eccetera Solo che lui Poi tornava a Cagliare E noi perdiamo Il pullman Quindi torniamo Figurati Io dunque Avevo 13 anni Torniamo in macchina Tu pensa Lorenzo Con il dottor Scotti E il dottor Monti Essendo mia sorella Aveva 18 anni Era una bella ragazza Io Era un ragazzino Che avevamo spiegato La situazione A qualcuno All'autista Non mi ricordo Vi portiamo a Milano Noi E siamo andati in macchina E in macchina C'era anche Tato Sabadini Grande Tato Per me è stato Uno dei viaggi Più belli della mia vita Con Sabadini Scotti e Monti A Tredicane Per colpa di quella Incosciente di mia sorella Ovviamente Era venuto ospiti da noi Mauro Ti ricordi Sì Come no Sì Tato Sì Ogni tanto mi scrive Anche all'inferno Perché gioca questo Anche all'inferno Cioè Ragazzi Certo che mi ricordo Il risultato della partita Dell'esordio Di Paolo Maldini 1 a 1 Gol di I selvaggi E altri Sì sì 1 a 1 Raga l'ho letto Non mi ricordo neanche Cosa ho mangiato ieri Luca Ti chiedono Un tuo parere Su Allora so che è un argomento Che tu sfiori sempre Però ti chiedono Calciomercato Sai che ci sono state Tante voci Insomma Nell'ultimo Nell'ultima Nell'ultima settimana Ti chiedono se Insomma Cosa ne pensi Di queste voci Difensori centrali Attaccanti Se arriverà qualcuno Nell'ultimo Nell'ultima settimana Perché tra l'altro Oggi ragazzi Ne abbiamo Ne abbiamo oggi Non manca tanto 17 18 18 18 Mancano ancora Due settimane Praticamente C'è il modo di tempo Sai Intanto È una sessione Complicata Nonostante Il Milan Abbia iniziato A lavorare Da novembre Novembre Dicembre Su obiettivi Perché non è ovviamente Che si aspetta Il 2 gennaio Però trovi Delle resistenze In questi giorni In queste ore La cosa che mi fa Più sorridere È la resistenza Di Urbano Cairo Su Buongiorno Mi fa sorridere Perché Urbano Cairo Ha fatto del Torino Una bancarella Sostanzialmente Da quando nel 2005 Lo ha comprato Per 10.000 euro Non so se voi lo sapevate Quindi ha comprato il Torino Per 10.000 euro Ha pagato 650 euro Ciascuno A un gruppo Di lodisti Che erano quelli Che garantivano La permanenza Perché il Torino Era in una bufera Societaria totale Da allora Il Torino Con anche un paio Di retrocessioni Di mezzo Non è mai arrivato Nelle prime sei Mai E credo Che non vinca Un derby Da quando c'era Nei Dossonetti Negli anni 90 Nonostante questo Vende Compra Fatti Ne ha vinto uno Nel 2015 Ne ha vinto uno Nel 2015 Con i gol Di Darmiana E Quagliarella Però adesso Ti do un dato statistico Che tu non sai L'ultimo allenatore Della storia del calcio Ad aver vinto Col Torino Il derby Sia l'andata Che al ritorno E nei Dossonetti Negli anni 90 Ah ecco Stagione Stagione Non mi ricordo Lo so Però anche un altro C'è il risvolto Della medaglia 95 C'era Rizzitelli C'era Silenzi Però il rovescio La medaglia Fu che l'anno dopo Nel derby di andata Questa me l'ha raccontata Marcello Lippi In una cena Ibiza Anni fa E che Nel derby L'andata Dell'anno dopo La Juventus Sta vincendo 3 a 0 C'era ancora Vialli Nell'intervallo Sai che Lippi E Sonetti Tutte e due Toscane Vialleggini Anche uno Di Scoglio L'altro di Arena Erano amici E Lippi Nell'intervallo Dice ragazzi Non c'è partita Ma risparmiatevi pure C'è nostra Vialli Si girò E gli disse No scusi L'anno scorso L'anno scorso L'ho vinto il derby E l'andata A ritorno Noi nel secondo tempo Andiamo avanti A sfaltarli Ancora Infatti il derby Finisce 5 a 0 Ah quello del 5 a 0 Ok quello del 5 a 0 Viene esonerato Si Chiusa la parente Comunque Per tornare Alla nostra domanda Buongiorno È un profilo Che mi piace Perché è un grande È un ottimo Prospetto Secondo me È già un ottimo Giocatore Perché è italiano Ve l'avevo detto Giovedì scorso Quindi questo Ritorno di Gabbia L'acquisto di Terracciano L'eventuale Ingaggio di Buongiorno Mi piacciono molto Come idea Spero che la resistenza Sia di facciato Ho letto anche Che il giocatore Invece sarebbe Ovviamente Molto contento Di venire qua Vediamo un po' Vediamo un po' Speriamo bene Un difensore Credo l'ha detto anche Pioli Che da qui al 31 Arriverà Dovrebbe arrivare Perché diciamo che Si è spostata un po' L'opinione dei tifosi Prima era Serve un attaccante 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 Invece vedo adesso Anche nei commenti Sotto i nostri video YouTube Vedo che tantissimi Parlano di un Centrocampista Incontrista Diciamo che L'attenzione Si è un po' Più spostata Su quel Tipo di Il centrocampista Incontrista Serve a prescindere Anche a maggio Giugno Quello secondo me Dovrà essere Un obiettivo di mercato Perché io L'ho detto tante volte Lo ripeto Al Milan Manca un incontrista Noi stiamo giocando Oggi tra l'altro Mauro Ho sentito L'ho chiamato apposta Flavio Tranquillo Che secondo me È uno dei più grandi Telecronisti Della storia Per la sua competenza Di Palacanese Perché gli ho detto Senti ma Scusa Il Milan gioca Sostanzialmente Con due playmaker Anche se È un termine Un po' desueto Anche nel basket Quello di playmaker Però insomma Che sia Benasser Orly E Rinders Gioca con due play Che cosa succede Nel basket Quando giochi Con due play E la sua risposta È stata quella lì Cioè sai Hai dei vantaggi Offensivi Perché è In chiave di palleggio È più soluzioni Allo scadere Dei 25 secondi Ne hai meno In fase difensiva Anche se Non è detto Che il playmaker Come si usava Una volta Sia 1,85 E bianco Può essere anche Un giocatore di colore Di due metri Oggi Che ha anche Quelle caratteristiche lì Perché serve Una protezione difensiva Quella del Milan È questa Senza farla troppo lunga Serve Come loro Come il pane Un incontrista Un centrocampista Che vada Vada a inseguire L'avversario Che gli aiuto Alla difesa Poi c'è Leonardo Che dice Vabbè C'è chi preferisce Calafiore Rispetto a Buongiorno Sono sì Ragazzi Sono opinioni Ma Calafiore Sì ma È un altro tipo Di giocatore Calafiore È un terzino Si diceva No È un altro tipo Di ruolo Terzino Prestato alla difesa Io faccio un po' Il punto della situazione Ragazzi Su Su Alessandro Buongiorno Alessandro Buongiorno È un giocatore Del Torino Secondo me Resterà un giocatore Del Torino Il Milan Al Milan piace Il giocatore Per carità del cielo Ma un'offerta Un'offerta del Milan Al Torino Per Buongiorno Non c'è stata Quindi Non c'è Una trattativa C'è il desiderio Forte Lo avete visto Anche in tv Del suo entourage Di far fare Un salto Al giocatore Però Che di qui Alla fine Del mercato Si trovino Tutti gli incastri Delicatissimi Che sarebbero necessari Per aprire una trattativa Io non lo credo Ecco Questo è Lo stato dell'arte Nudo e crudo Su Buongiorno Anche perché Onestamente Se Veramente La richiesta Si aggira Sui 30 milioni Anche io Non farei Nessun No Luca No Luca La richiesta Si aggira Più su Più su Io non faccio cifre Perché non sono il Torino Non è corretto Che io le faccia Però la mia sensazione È che sia più Verso i 40 Che verso i 30 Beh Ok Non se ne parla proprio Non se ne parla proprio Mi dispiace Questa qua Non è come Popovic Perché lì erano Subentrate Le richieste Dei suoi manager Però Però Buongiorno Non vale Questo Mi dispiace No Per quanto sia bravo Per quanto abbia Prospetto Per quanto abbia Futuro No Non vale Più di 30 milioni No Parliamo di cifre Comunque Molto grandi Cioè Ricordiamo Che comunque Al di là Di tutto Luca Che avevi fatto Prima Di giocatori italiani Che stiamo riportando La base Insomma Di discorso corretto Era sensato Il tuo Noi facciamo sempre Questa proporzione In altri mercati Con 40 milioni O 50 milioni Vai e compri Il giocatore Più forte Di un campionato Non che Buongiorno Non sia giocatore Portante A me piace Poi sai Queste Queste strategie Qui Non è che abbiano Sempre funzionato In casa Torino Il caso Proprio Pilota Di tutti Fu Belotti Anche Secondo me In questi casi Come Berardi A Sassuolo Un po' Per colpa Del giocatore Cioè Se a un certo punto Della tua carriera Buongiorno Il suo entourage Stanno già provandoci Adesso che lui è giovane Ma a un certo punto Della tua carriera Tu decidi Che al Sassuolo O al Torino Hai dato Quello che dovevi dare Ti incontri Col Presidente Per favore Fammi andare via Se tu invece Preferisci Delle realtà Come Torino Nel Sassuolo Come capitò Con Belotti Allora Lì rimane Però All'epoca All'epoca Cairo Riffiutò 70 milioni Per Belotti Tra l'altro L'assimile Arrivò Persino Dal Milan Sì sì Il Milan Fece un'offerta Nell'estate 2017 Dirigenti Fassone E Mirabelli Fece un'offerta Al Torino Di 45 milioni Più Niang Per Belotti Niang all'epoca Era molto quotato 45 più Niang E il Torino Disse no Lo sappiamo La domanda Che io voglio fare A Luca È questa Poi tu sai Luca Che purtroppo Per Belotti E per il calcio italiano Nella stagione successiva Belotti andò incontro A quella spirale Di infortuni Che ci privò Di lui Contro la Svezia Nel playoff mondiale E che poi Ha un po' contaminato Tutta la sua carriera Non esiste il senno Del poi Ma con la tua fantasia E con la tua penna Se Belotti Fosse venuto al Milan La sua carriera Sarebbe stata diversa Ma può darsi di sì Ovviamente Non so se si sarebbe Fatto male Anche qui Dirlo in questa Epoca storica Del Milan Sembra quasi Una 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 Beffa Ironico Perché gli infortuni Sono tanti Però nel 2017 Era il 2017 E può darsi di sì Perché i metodi Erano diversi Perché le ambizioni Erano diverse Perché il Milan Mancava un giocatore Di quelle caratteristiche Lui sei anni fa Era veramente Molto forte Era uno di quelli Con una delle espressioni Che io detesto Che facevano Reparto da solo Nel senso che però Era uno che si portava In spalla La squadra E quando c'era Da risolvere La partita Col Torino La risolveva Quindi in quel momento Sì Dopodiché È cominciato Il suo calvario E non lo so Può darsi Che sarebbe stata diversa Può darsi Che sarebbe stata Capitura Così da chito A domanda Rispondo Secondo me Sarebbe stata Diversa e migliore Però Io credo Anche quella di Berardi Anche quella di Berardi Anche quella di Berardi Se tre o quattro anni fa Mi interessava Esattamente La chito Sì Per quando per Pioli Era un giocatore Un acquisto Importante E fondamentale Lui non chiedeva altro Che Berardi Insomma Lui Rimase sotto coperta Lasciò che trattassero Le società Sassuolo Sparò La sua cifra Ma Secondo me Ecco Dico Se Berardi A un certo punto Giocava il nazionale Si sedeva davanti Al presidente Non so se c'era ancora Il povero Squinzi O l'altro Però gli diceva Insomma Lasciatemi andare Sparemi andare a Milan Se tu arrivi Come immagino Possa fare Buongiorno a maggio Sia perché lì Che cosa fa Con una scuola Che non arriva mai Neanche nelle prime sei Hai fatto la tua esperienza Hai fatto quello di fare Adesso grazie Lui leggi Fatemi andare Certo Luca Descrivevano una cosa Rispetto al discorso Che hai fatto Se vuoi Correggi tu Loro dicono La risposta Che ti dice le chat E allora continuiamo Te la dico Come l'ha scritta Allora continuiamo A prendere giocatori Da 10 milioni Ma non credo che Il discorso di Luca Sia quello Il discorso di Luca Giocatore Valore del giocatore Non è Prego Il problema Per rispondere A questo genere Di osservazioni Io lo dico Inutilmente Da 30 anni Non da oggi Non sono i soldi A fare grandi Gli acquisti E a fare grandi Le squadre Ci sono Fior di esempi Il Real Madrid È andato avanti Per quasi 10 anni Senza vincere E spendeva Montagne Di denaro Il Chelsea Negli ultimi Oggi il Manchester United Oggi lo United No no Guarda Il Chelsea È ancora più Eclatante Perché sono due anni Che non fa le coppe Perché è sprofondato A centro classifica E ha speso 900 milioni E ha dei mezzi Illimitati E spende male Il Girona In Spagna Contro Barcellona Atletico Real Madrid È primo Con il Real Madrid Poi certo Lui dice Beh ma quelli Durano una stagione Non ho nessun dubbio Ma il Milan Che ha vinto Il campionato Che è arrivato Secondo l'anno prima Che è tornato Competitivo In Italia In Europa Salvo Gli ultimi mesi Che conosciamo bene Non ha speso Cioè scusate Ha speso Dei soldi Grazie a Dio Li ha spesi bene Però Mentre hai Per caso Per esempio Toppato I 35 milioni Di Catteler Hai Strainvestito I quattro soldi Che hai dato Per Leao Per Teo Hernández Ragazzi Scusate Scusate Luca Mi permetto di dire una cosa Quindi non è che se tu spendi Prendi Quest'anno Almeno ha speso 120 milioni Ragazzi 120 milioni Luca Luca Tu vai a comprare Il Reinder Sul mercato Quest'anno Adesso non so Dirti esattamente La cifra Intorno ai 20 milioni L'abbiamo pagato È un giocatore Se tu guardi Quello è un prezzo Basso Per la qualità Del giocatore Perché comunque È un giocatore Che mette una qualità Incredibile In mezzo al campo Ti faccio un esempio Semplice Perché Mi fanno una testa Così I milanisti Su Turan Perché il Milan Aveva in mano Turan Noi sappiamo benissimo Quali erano le condizioni O l'ingaggio da 6 e mezzo A Turan Che fino ad oggi Non ha combinato nulla Non aveva Parliamo di giugno L'anno scorso E il suo entourage Nel Milan Quello che guadagna di più È Leao Che ha vinto Ha fatto E brigato È stato il miglior giocatore Della Serie A Nel 2022 Quindi il Milan Ha detto No Punta Ad oggi Ad oggi 18 gennaio Del 2024 Turan Ha esattamente I numeri Di Pulisic In termini Di gol E di assist Quindi di che cosa Stiamo parlando Esattamente Io Non è che tu prendi 4 giocatori Da 30 milioni E hai la scuola Più forte del mondo No Puoi prenderne Da 500 mila euro E ti trovi La scuola più forte D'Italia Come tu No ma L'obiezione L'obiezione Che faccio io Al tifoso Lollo Non è che Noi prendiamo Solo i giocatori Da 10 milioni Noi prendiamo I giocatori Per il valore Che secondo noi Hanno Certo E se secondo noi Il tal giocatore Non parlo di Buongiorno Che è un giocatore Del Torino Ed è sacrosantemente Un giocatore Del Torino Se un giocatore Viene valutato Sul mercato 40 E secondo noi Non vale 40 Non lo prendiamo Questo è il punto E' legittimo Mauro E' legittimo Se uno valuta Che quel giocatore C'è È un piano Al contrario Ragazzi Luca Per chiudere su Turam Al di là di quello Che hai detto tu Che è corretto Turam In cuor suo Voleva giocare In una squadra A due punte Il 3-5-2 Dell'Inter Era quello che lui voleva Da noi Col 4-2-3-1 Con lui Unica punta E due esterni Larghi Lui non si vedeva Questa era La pregiudiziale Di Turam Di Turam Non era Economica O quant'altro Era anche tattica No va bene Certo Se poi gli aggiungi 1-0 Vedi che La questione è tattica Però non conosco Turam Non voglio dirlo Ma dico solo Che l'equazione Poi c'è Turam non è a zero Ragazzi Vedo che continuate A scrivere No non è a zero Ragazzi No non è a zero No non è a zero Io non faccio cifre Di altri club Mancherebbe altro Ma non è a zero Comunque Allora Perché è a zero E se uno dice Che sì O Donnarumma O altri giocatori Quando tu devi fare Un rinnovo È come se tu Lo dovessi ricomprare E invece Quando arriva Uno a zero Fa il colpo Della vita Perché arriva a zero Perché i parametri Valgono sempre Se io do Diciamo Quello che leggiamo 6 milioni e mezzo Netti a Turam Ogni anno Sono 13 milioni All'anno Moltiplicato Diciamo che il contratto Sia 4 anni Sono 52 milioni Quindi mi dite Dov'è Che l'hai preso a zero Più le commissioni Più le commissioni Più le commissioni Che erano tanti soldi Diciamo 60 milioni Uno dice Sì ma non paghi il cartellino E però Ho speso 60 milioni In 4 anni Lo ammortizzo Sì benissimo E al momento Gennaio 2024 Ha gli stessi numeri Esattamente In termini di gol Di Assis Di Pulis Che non è seconda punta Non è prima punta Un altro grande giocatore Che hai preso Hai preso due giocatori In Chelsea Sì ma là non giocavano Sì ma quelli che giocano Arrivano dodicesimi In Chelsea Quindi era meglio Non giocare là Ed essere terzi in Italia Fino a polava contrario Eh sì È così No 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 Là non giocavano Là sai L'ho detto tante volte A Londra Non giocava Tomori Non giocava Abram Non giocavano Tanti giocatori Girù Girù non giocava E poi dopo Sono andati in giro Hanno giocato E il Chelsea Continua ad arrivare Il dodicesimo E quindi Se te l'hanno venduto Te l'hanno venduto Perché non sono capaci Di valorizzarlo Hanno cambiato 18 allenatori In due anni E anche tanti giocatori Continuano a spendere Una montagna di soldi E non credo A proposito A proposito Luca Luca e Mauro Vi porto su questo tema Prima di salutare Luca Parole di Walter Junior Messias In generale In questa intervista In cui parla Parla ovviamente Anche della Della questione ambientale Insomma Della pressione Parla di pressione Che hai Quando tu giochi Giochi al Milan Parole Parole molto interessanti Che ci fanno capire Una sfaccettatura Anche di Che vengono Che vengono Da un personaggio Particolare Lui dice Io Scaricavo gli elettrodomestici Come Facevo A calarmi Nella parte Di chi Deve Reggere le pressioni Diventare l'idolo Di una tifoseria Insomma Lui con la testa Genova gioca più libero Io Adesso che l'ho letto Adesso ho capito Tante cose Che avevo Percepito In maniera superficiale Che adesso ho un po' capito Insomma Fa parte della sua storia di vita Fa parte del suo personaggio Io Sono parole che rispetto Quelle di Messias Anch'io assolutamente No no Ma assolutamente Infatti La mia cita era proprio Perché rispetto tantissimo Le sue parole Quando dice Se poi pensi troppo A non sbagliare E poi va a finire Che sbagli Penso che quello sia Proprio il punto fondamentale Dove sei magari Sottoposto appunto A una pressione Che fai fatica Luca Riguardo a questo Questo argomento No Io dico che la cosa È sempre parametrata Come Come L'andamento Della squadra Cioè Il Milan Che vince lo Scudetto Ma anche il Milan Che arriva Secondo l'anno prima È un Milan Libero di testa Le pressioni Le pressioni Ce le ha sempre Ma la squadra Come diceva la canzone Di Lucio Dalla Ride e si diverte Perché Perché trova Motivazione in questo Voglio dire a Messias Che lui è in una piazza Che forse non conosce Ancora molto a fondo Dove le pressioni Sono molto alte Perché a Genova Si appena appena Sbagli due partite E poi ne riparliamo E al Genova Grazie a Dio E grazie a Girardino Al quale faccio ancora Il complimento Si è trovato in Serie A Senza averlo Come obiettivo Sta facendo una signora Serie A Per quella che è la struttura Sia societaria Che della squadra Però nel momento In cui vai un po' In difficoltà Le pressioni salgono Come al Milan Finché le cose Andavano bene C'era allegria C'era spensiatezza C'era tutto il pubblico Che cantava e ballava E quando Poi le pressioni Sono le pressioni Al Genova Come al Milan Ci sono le ambizioni Che cambiano Ma le pressioni ci sono Certo Assolutamente Luca grazie Un abbraccione Ciao Ciao Luca Grazie a Luca Serafini Grazie a Luca Serafini Adesso ha sempre Milan Lollo Io ti strozzerei Che tu Quando siamo Sul filo di lana Tu cominci I capitoli nuovi Ragazzi Voi dovete sapere Che spuma è un metodico Se li sballi Quel minuto a Mauro No Non è un minuto Solo quattro Cici E abbiamo I nostri ospiti Che ci stanno aspettando Un altro campione Della nostra storia E un giornalista Editore di un sito Che segue Da vicino il Milan Saluto Marco Ciao Marco Buonasera Ciao Marco Ciao Buonasera a tutti Grande Marco Grande Marco Adesso ci racconti tutto Ciao Tanti auguri Marco Saluto Matteo Ronchetti Editore di Pianetamilan.it Ciao Matteo Buonasera Ciao Ciao a tutti Buonasera Mi accodo Buon anno a tutti Ciao Ciao Matteo Eccoci qua Con Marco E con Matteo Matteo fra poco Arriviamo anche da te Marco Volevo chiederti Intanto Prima di parlare Di Udinese Milan Mi dicevi che sei In sede FIFA Sei in un ambito Molto alto Molto importante In questi giorni Sì sì Sono qui in Svizzera Siamo stati Al museo Sono insieme a Vincenzo Iaquinta Ci hanno onorato Di ritoccare La versione originale Della Coppa del Mondo È stata una bella giornata Emozionante Dove abbiamo rivissuto Emozioni di quasi 18 anni fa E domani Faremo una partitella Qui ad Arosa Sulla neve Insieme a tanti Altri ex giocatori Tedeschi Svizzeri Di un po' di tutto il mondo È una cosa divertente Perché si giocherà A calcio sulla neve E la cosa bella Della FIFA È anche Una cosa carina Perché poi alla fine Dateci un campo di calcio Poi ci può essere Il sole La pioggia La neve Tutto quello che volete Ma noi diventiamo Bambini di nuovo E iniziamo a giocare Eh sì La Coppa del Mondo Qui si riferisce Marco Amelia Evidentemente È la Coppa del Mondo Del 2006 Marco Io non so perché Avevo in testa Che avevi giocato Nell'Udinese Invece ho controllato adesso No? Non hai mai giocato Nell'Udinese A Udine hai parato Un grande rigore A Di Natale L'anno in cui abbiamo vinto Lo Scudetto E faccio la stessa domanda Abbiamo avuto prima Marco Thomas Helweg E Federica Zille Notissima giornalista Di Dazon Che tutti voi conoscete E io a loro Ho chiesto Lo chiedo anche a te Lo chiederò fra poco Anche a Matteo Perché per noi È tradizionalmente Dura Tosta E ostica La trasferta di Udine Allora La trasferta di Udine Che io ho vissuto Per Quattro anni È sempre stata tosta Perché l'Udinese Vuoi o non vuoi Ha sempre una Una rosa di giocatori Che affronta questa partita In maniera Determinata E abbiamo fatto Veramente sempre Difficoltà E a queste partite Noi ci siamo arrivati Sempre Sempre Con delle problematiche Di formazione Di rosa Se penso All'anno dello scudetto Io ho giocato Sia la partita d'andata Che l'ultima L'ultima di ritorno Mancavano all'andata Tanti giocatori L'ultima di ritorno Era l'ultima di ritorno L'anno dopo Siamo andati Praticamente con Undici titolari E sette della primavera E vincemmo Una partita strepitosa Anche lì gioca io Vincemmo due a uno E sono state tutte le partite Poi abbiamo perso La partita successiva Il terzo anno Sono state partite Sempre toste Ci siamo sempre arrivati Con delle difficoltà E questa è una partita Che per il Milan Per storia È sempre stata Molto molto difficile Ma perché L'udinese Ha una storicità Di Serie A Ha avuto tantissimi Bravi giocatori E ormai Si è creata Questa condizione Io credo che a Udine Vivano questa settimana Della partita col Milan Dove Tutti credono Che possono fare Qualcosa di straordinario Di potercela fare Qualcosa di mentale Però Io invece Ho una percezione diversa Quest'anno E vedo un Milan Al completo E con tante Anche se mancano Tanti giocatori Però la vedo bene Milan lo sto vedendo bene Lo sto rivedendo bene Speriamo di poterti Con professionalità Con professionalità Il Milan Quindi Matteo La stessa cosa Che ho chiesto a Marco Sulla trasferta di Udine Prima però Parlaci un attimo Del tuo sito Pianetamilan.it Quando è nato Come viene fatto Presentiamolo ai nostri tifosi Ma allora Intanto grazie dell'invito Pianetamila è nato Una decina d'anni fa Nel 2013 L'abbiamo sviluppato L'ho sviluppato Con grande passione Devo dire Dal 2015 Siamo diventati Partner Della Gazzetta dello Sport Abbiamo continuato A crescere E ad evolverci Nel tempo Dando uno sguardo Sicuramente al sito E poi ovviamente Come state facendo Giustamente anche voi Ai social Per avere un confronto Sempre più Diretto E passionale Con i tifosi E quindi Questo È il focus Che vogliamo avere Per quanto riguarda Invece La partita Con l'Udinese Sì Effettivamente Ultimamente Si esaltano sempre Con noi Quest'anno Non stanno incappando In un'annata Particolarmente Rosea Hanno cambiato tanto Purtroppo Hanno vinto due partite Una col Milan Per cui Come diceva Marco Amelia Effettivamente Quando vedono il Milan Si ringalluzziscono Speriamo Speriamo che qualcosa Oggi vada storto Però devo dire Che È una squadra Quella Dell'Udinese È costruita sempre In maniera Abbastanza scientifica Certo Vanno a pescare Giovani Di valore Da valorizzare Con potenziale È una squadra Anche molto fisica Per cui Quando la becchi In giornata Fai veramente fatica Soprattutto Quando La partita Non si sblocca L'Udinese Ci mette sempre Quel qualcosa In più È sempre molto Pericolosa Anche in contropiede Facciamo Abbiamo fatto Negli ultimi anni Grande fatica Spero 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 Di vedere Un Milan Diverso Un Milan Che sappia gestire Molto di più La partita E che sappia Sfruttare Tutte le sue armi Perché la squadra Sinceramente Io la trovo forte Poi sta rendendo Forse meno Delle attese Meno delle sue potenzialità Però è una squadra Forte Secondo me Anch'io Anch'io Concordo Concordo Con te Allora Ho raccolto Un po' Di domandine Marco Parto da te Allora Ti spiego Il dibattito Allora Parata Parate Non singola Parate di Mike Contro la Roma Fa due parate Il dibattito Qual era Diciamo Da una parte Tanti tifosi della Roma Quel tipo di parata Le hanno reputate Due parate semplici Dall'altra parte Invece le due parate Sono state E infatti Vedo già dalla tua espressione Dall'altra parte Tifosi del Milan Che hanno esaltato La parata di Mike Specialmente adesso Mauro si ricorderà Quella su tiro di chi Che va in basso a destra Nell'angolino A prenderla Di Selic Di Selic Bravo Grazie Di Selic E volevo una tua opinione In merito Io le ho trovate fantastiche Però volevo una tua opinione Molto più centrata Tue opinioni tecniche Di portiere Esatto Allora L'opinione è molto semplice Mike ha fatto interventi straordinari Per due motivi Queste situazioni nascono Da fraseggi veloci E passaggi veloci Dove il portiere Non è sempre fermo e statico E ben posizionato Si deve muovere Per essere ben posizionato Quando la palla La riceve Chi poi calcia in porta Però tu non sai mai Chi calcia in porta Alla fine Arriva questa palla A Selic Lui si è dovuto spostare Velocemente Fermarsi prima del tiro Di Selic E poi andare in parata In controtempo E è riuscito poi A farla anche bene Tecnicamente Pizzicandola Con la manona Nel punto giusto Nel momento giusto Per poi mandarla In calcio d'angolo Quella non è una parata Da poco Sembra una parata da poco Ma dietro c'è Tanto C'è un portiere Che è sempre molto capace A farsi trovare Nel momento giusto Nella posizione giusta Oltre poi Ad avere doti straordinarie Di reattività E tecnica Che ci sta facendo Ci sta dando soltanto Conferme Di quello che diciamo Ormai Da tanti anni E ricordo sempre Che questo è un portiere Che nei due anni di Milan Ha avuto Difficoltà fisiche Problematiche fisiche E è andato oltre Queste problematiche E è sempre stato Poi il momento In cui è tornato in campo Protagonista Poi Ha fatto due errori In qualche partita Ma due errori In tre anni Con tutto il rispetto Ci stanno Errori Da fatti anche Neuer Neuer e Buffon E noi a Magnan Perdoniamo tutto Perché Nella bilancia Di errori E cose straordinarie La bilancia Delle cose straordinarie Naturalmente Ha un peso Veramente incredibile Ha dato Tanto 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 A questo club A questa squadra Negli ultimi anni Quindi La parata dell'altra sera Su Selic E' straordinaria Ti faccio un'ultima domanda Prima di passare A Matteo Abbiamo avuto Un mesetto fa Circa Mauro Ricordami il nome Capo preparatore Dei portieri Mauro Non ricordi Nostro Nostro Sì sì Marco Proprio su questo discorso La chat Le chiedeva Secondo lui Dove poteva Migliorare Mike E lui parlava Della croce Della famosa Della croce In uscita Sul posizionamento Del corpo Davide Pinato Davide Pinato Davide Pinato Davide Grande amico Davidone E diceva 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 questa cosa Senza entrare nel merito Di questa osservazione Oppure Vedi tu se vuoi parlarne Sul gol di Muriel Sul gol di Muriel Sul gol di Muriel Di tacco Bravo Esatto Era il giovedì Dopo il gol Il gol dell'Atalanta Bravo Mauro E Invece di far la croce Se poteva attaccare il pallone Esatto Esattamente Eh Ma questa è una diatriba Nel mondo dei portieri Nel mondo dei preparatori Dei portieri Che Che Se voi entrate in questa cosa Ci fate 800 trasmissioni Perché I preparatori dei portieri Ognuno ha la sua filosofia No? La croce Quindi non ne veniamo a capo No è lunga La croce è una cosa molto pericolosa Che rischia di Di creare delle problematiche Se non la sai far bene Quindi va allenata tantissimo A me non piace Io per caratteristiche Eh Che vanno con le braccia E col corpo in protezione Per coprire più superficie possibile Soprattutto lo facciano In movimento Andando verso la palla E non fermi statici Coprendo solo quella zona Perché poi oggi che succede Che ci sono i video Gli attaccanti sanno Che tu fai la croce E sanno che devono allargare Un po' di più la palla Semplice Quindi Sapendo questo Lavorano anche su Sulle caratteristiche Come noi lavoriamo Sulle caratteristiche Degli attaccanti Come portieri Gli attaccanti Lavorano sulle caratteristiche Dei portieri Se fanno una cosa O l'altra Tecnicamente In un dato In una data situazione Di Ravvicinata Oppure no Quindi Lui può migliorare In questo Però Io ho avuto Quando sono andato al Chelsea Mi hanno iniziato A far fare la croce Io ho fatto attacco palla Per una vita E ho iniziato al Chelsea A fare la croce Ho trovato molto difficoltà A fare la croce Quindi Chi Cresce con l'attacco palla Ha difficoltà a fare la croce Chi ha fatto la croce Per Da quando è bambino Invece Nell'andare A fare Un lavoro di attacco palla Diventa molto più facile Per loro Quindi può lavorare Può farlo Dipende Dipende Da come si sente Dal preparatore dei portieri Io Ti posso dire che Courtois È cresciuto con la croce Quando poi Con Gianluca Spinelli Iniziare a fare l'attacco palla Oggi lui sa fare Tutte e due bene le cose E capisce Quando fare una cosa E quando l'altra È molto efficace Bene Bene Hai visto? L'ho buttata lì In realtà È una discussione Molto molto interessante Ho compressato in due minuti Quello che si fa In due centenze Certo Certo Esatto Potevamo fare un'ora e mezza Di trasmissione A parlare solo di questo Matteo Ho una domanda per te Che arriva da Luca A proposito di Luca Ti dice Matteo Ma che cosa ne pensi Della stagione di Jovic? Ma allora Non ha cominciato benissimo Mi è sembrato un giocatore Che dovesse ancora Diciamo Togliersi di dosso Un po' di polvere Un po' di scorie Sia fisiche Che mentali Poi pian piano Devo dire che Ha trovato anche Tanta fiducia Da parte di Pioli Perché quando Molti si chiedevano Ma perché Sta continuando a mettere Jovic Molti dicevano È un paracarro Non vede la palla Non serve a niente È stato un acquisto Sbagliato Eccetera Eccetera Pioli insisteva E poi abbiamo capito Il perché È un giocatore Che è andato migliorando Ha segnato cinque gol Tre in campionato E due in coppa Da un peso specifico Importante È un giocatore Che a me piace Soprattutto Quando Deve aiutare la squadra Quando Ritorna Verso il centrocampo Riesce sempre A trovare la giocata Ad allargare la palla A lanciare In profondità Gli avversari Poi non fa dei gol Strepitosi Non è che si è inventato Chissà che cosa Però ha fatto Quello che doveva fare Ha fatto l'essenziale Ed in questo Devo dire Che mi è piaciuto È arrivato Praticamente All'ultimo Per due lire Per fare Il vice Giroud E sta facendo Quello che deve fare Un vice Sostituire Degnamente Il titolare E quando c'è Segna Per cui Oggi Non possiamo dirgli Sinceramente niente Speriamo Di rivedere Ancora di più Quello di Jovic Che si era visto All'Aintracht Che però Secondo me Giocava in una posizione Un po' diversa E che un po' Ha perso Quelle caratteristiche Lì Di esplosività Un po' come Ha fatto Rebice Nel tempo Le ha un po' perse Quelle caratteristiche Poi a Udine Potrebbe giocare A Udine Giroud Potrebbe giocare Jovic Lo vedremo Lo deciderà Nostro mister Domani ci sarà La conferenza stampa Ecco Giocava in Giroud O giocasse Jovic Marco Cambia qualcosa Per te Per noi A Udine Nello specifico In questo momento È È una questione Di strategia di gara Perché comunque Come giocatore Ecco Esatto Sono due giocatori Che ti permettono Due strategie diverse Uno è un manovratore Che si allarga Si muove tanto Giroud Invece Oltre a tenere Occupati i difensori Per struttura Ti dà anche Molte partite E sa e ha capito Qual è il suo ruolo E lo sta facendo Al massimo Quindi quando tu Allenatore Hai queste possibilità Bello Spettacolo Certo Assolutamente Va bene Va bene Marco Io ti ringrazio tanto Ti abbraccio Spero di iscriverti Alle 23 di sabato sera E di Farti tanti Aspetto con ansia Il tuo messaggio Marco Buon lavoro Grande Marco Grazie Grazie a voi Grazie Grazie A Marco Amelia Salutiamo anche Matteo Perché vedo Che l'ho schermata lì Grazie a Matteo 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 Ronchetti Editore di Pianeta Di PianetaMilan.it PianetaMilan.it Buon lavoro con il sito Matteo Grazie Grazie Ciao Buon lavoro Buon lavoro a tutti Perfetto Non perdiamo tempo Se no Mauro Suma poi mi sgrida No No Con i 4 minuti e mezzo Di ritardo Che tu hai accumulato In chiusura Del collegamento con Luca Perché E i minuti di ritardo Poi E' colpa mia Rocco E' colpa mia Rocco Mi assumo la responsabilità Rocco Rocco Giorgiani Fondazione Mila Andiamo il benvenuto Ciao Rocco Bentornato Ciao ragazzi E' sempre colpa tua Ciao Rocco E' sempre E' sempre colpa di Rocco Lui Lui ha questa capacità A questa capacità Rocco Che quando siamo sul crinale Ci sono già gli ospiti pronti Stiamo finendo un collegamento Lui riapre un altro tema Ma proprio bello Pacioso Lui proprio bello Tranquillo Senti a proposito Mi piacerebbe approfondire Io lo amo molto Non hai tempo Non hai tempo Non hai tempo I televisivi No lui gli piace Va bene Rocco Giorgiani Fondazione Si si ma Mancherebbe altro Mancherebbe altro Poi i nostri tifosi I nostri tifosi Capiscono e si divertono Ieri ho avuto un collegamento Con un podcast Del Milan Club Di Montreal Negli Stati Uniti Una delle domande è stata Ma com'è lavorare con Lolo? Com'è lavorare con Lolo? E io ho risposto Lolo è un giovinastro Come si traduce giovinastro In canadese? E mi hanno detto qualcosa Che adesso non ricordo Va bene Allora Caro Rocco Io leggo Nella scaletta Che la nostra Giulia Pedrazzani Ci ha Precisamente Professionalmente mandato Sport4All A Messina In Sicilia Rocco Questo è un altro progetto Che è Una delle tante iniziative Di attività Di Fondazione Milan All'interno del programma Sport4All Ricordo essere Uno dei pilastri Di Fondazione Milan Che riguarda appunto L'attività Per ragazzi Giovani Con disabilità L'idea è sempre quella Di favorire E più possibile La pratica sportiva Di più persone Possibili Quindi favorire L'accesso Allo sport Alle persone Con disabilità In questo caso Ed è Un nuovo progetto Della fondazione Perché a Messina È la prima volta Che lavoriamo Grazie ad una collaborazione Con Fondazione Bene Che è il nostro partner Territoriale Insieme abbiamo Applicato Un bando Che ci permette Di sostenere Questo progetto Per tutta questa stagione Come vedete Sono tutti ragazzi Che praticano sport In una zona periferica Della città E come sempre La cosa bella È quella Di poter Raccontare Le storie Di persone Che non solo Fanno sport Stanno insieme Partecipano Ad una vita sociale Ma che alternativamente Non potrebbero fare Per una serie di motivi Soprattutto motivi Perché alcune volte Si pensa che il problema Principale Sia Quello economico E molto spesso lo è Soprattutto Nelle situazioni Magari di difficoltà Più Più estrema Ma molto spesso È anche un problema Veramente strutturale Perché mancano gli spazi Mancano gli istruttori Mancano le persone Che siano in grado Di creare Una realtà sportiva Inclusiva Questa è una battaglia Molto ampia Molto Come dire In parte anche culturale C'è l'idea di dire Che le associazioni sportive Hanno anche questo compito Di Di aprire le loro porte A tutti quelli Che hanno in qualche modo I problemi di esclusione Sono esclusi Ma per tanti motivi Appunto Non c'è la palestra Non c'è il campetto Non ci sono Gli attrezzi Perché Per fare baskin Come in questo caso Come avete visto Da qualche immagine C'è bisogno del campo adatto C'è bisogno Delle carrozzine adatte C'è bisogno degli istruttori Che seguono i ragazzi Che li aiutino Ad avviare La pratica sportiva Perché spesso È proprio una prima volta E in questo punto A me fa molto molto piacere Imparare No Rocco Imparare anche a farlo Perché ovviamente È un sport In un certo senso È come se iniziassi Un nuovo sport Perché Non è così immediato Quindi devi anche immaggerti Però il primo passo È sempre quello Di provarlo Di provarlo Di creare le condizioni Per cui Si possa Iniziare Un lavoro E l'altro aspetto Che sembra banale Ma che non lo è È creare anche una rete Di amici Che possa farlo insieme a te Perché se fai sport La cosa più difficile Guarda in questi anni Che riscontriamo Non soltanto noi Ma chi lavora Come chi fa il mio lavoro In generale Sul territorio Paradossalmente C'è Ci sono tantissimi ragazzi Che avrebbero bisogno Ma Fai moltissima fatica A A ingaggiarli Quindi andare A Proprio A recuperare I ragazzi sul territorio I ragazzi giovani E meno giovani Per Offrirgli una possibilità Perché normalmente La disaffezione Allo sport La disaffezione Anche a un impegno Di Come dire Sociale In un certo senso Sportivo È il primissimo ostacolo Che incontriamo Perché C'è proprio una E lo dobbiamo superare Una cazza di voglia Diciamo così Che E lo dobbiamo E lo dobbiamo E lo dobbiamo Superare Rocco Rilanciamo L'attenzione dei nostri tifosi Sulle aste Charity Stars Rocco Rilanciamo sì Perché ci sono Deci meli bellissimi C'è anche un'esperienza Molto bella Per Milan-Napoli Prossimamente Che sono in asta E c'è una maglia Di Musa Una maglia di Teo Eccoli qui Una maglia di Pellegrino E anche degli oggetti Particolari Questa è una litografia Questa è una litografia L'ultima che vedete Sulla di questa E sono tutti modi Molto semplici Nella dinamica Ma per noi Veramente importanti Perché alla fine dell'anno Ci permettono Veramente di sostenere Diversi progetti Devo dire Quindi non è soltanto È un contributo Che dalle aste Il contributo che arriva È veramente importante Per noi Alla fine dell'anno Perché ci permette davvero Di aiutare tanti ragazzi Poi Facciamo sempre la somma E tireremo un po' Anche le conclusioni Raccontando la fine stagione Di esattamente Quante persone Riusciamo ad aiutare Attraverso Questi Grandi contributi Alcuni sono anche Come avrete visto Nel corso delle settimane Alcune aste Hanno degli importi Veramente importanti Certo Senti Rocco Invece Per la Milano Marathon 2024 Per la Milano Marathon 2024 Ci parli di Marco? Ci parlo di Marco Abbiamo un contributo Io mi chiamo Marco Io faccio una piccata Da quando avevo Uno o due anni Marco è un ragazzo simpatico Solare Con tanta energia Che va incanalata Nella maniera corretta Ed è un piacere Averlo qua con noi Al corso d'arrampicata L'arrampicata è uno sport Sia individuale Che di gruppo Però l'arrampicata È anche affidarsi A qualcun altro Perché mentre scaliamo Con la corda Dobbiamo mettere La nostra vita in mano A un nostro compagno A un nostro amico Direi che ci ha portato Sicuramente Tante risate E soprattutto Ci ha fatto capire Quanto certe barriere Siano difficili da superare Ma con la giusta energia Con il giusto effort Si riescono a superare Come vedete Abbiamo scelto Di raccontare una storia Perché Questo è il motivo Per cui facciamo La maratona Per cui partecipiamo E per cui chiediamo A tante persone Di correre con noi Per supportare L'attività E lo sport Di questi ragazzi In questo caso All inclusive È un progetto Che abbiamo A Reggio Emilia Una collaborazione Che esiste Da diversi anni All inclusive sport E possiamo aggiungere Un pezzettino Rispetto a settimana scorsa Cioè cosa faremo A chi sarà più generoso E a chi correrà La staffetta più veloce Quindi questi sono i premi Che mettiamo in palio Oltre al piacere Di stare veramente Una giornata insieme Di correre Anche Come dire Essere più vicini al Milan Per chi raccoglierà Più fondi Avremo il piacere Davvero Di ospitarlo In occasione Di Milan Genova Come vedete Bello E poi Chi invece Raccoglierà più fondi Avrà in buono Quattro magliette Dei nostri calciatori Siamo in chiusura Mi dicono Scusami 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 No solamente Un motivo in più Per te Per allenarti E per correre con noi Ok Sono tornato a correre La settimana scorsa Dopo quattro mesi Siamo Ragazzi Siamo veramente In chiusura Mi dicono Dalla Regia Che abbia questione Di secondi Grazie Mauro Grazie Rocco Giorgiani Fondazione Milan Ciao 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 Rocco Ciao a tutti Ciao a tutti Come sempre Forza Milan Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!